ah 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 35 35 adesso basta oh er sicuro che sono Ann browser era soltanto uno scherzo mi ha fatto diventare rosso di rabbia adesso dobbiamo solo decidere come arrivarci allora lei e suo marito siete qui per una piccola gita nell'entroterra non siamo sposati e se proprio lo vuole sapere e noi siamo in una importante missione segreta segretissima dovete salvare il bambino rapito da me qui siamo qui per questo e lei come lo sa da queste parti è molto difficile e non si ruba il pane forse incontrerete qualcuno di speciale o forse no forse avrete dei cuccioli o forse no forse entrerete in un circo imparerete a volare vivete nella giungla ma lasciate la prima di diventare troppo duri vivete nella foresta ma lasciate la prima di diventare troppo teneri trattate gli anziani con rispetto e non fatevi ingannare dai cattivi consigli se qualcuno di nome lucini o lo vi invita in un posto chiamato paese dei balocchi non andate già dal nome lucinolo si capisce che è un faramutto e credetemi di coscienza melinto per se Grazie.